Golden Milk, l'antica ricetta del latte d'oro che combatte le infiammazioni e previene il cancro. Il latte d'oro, meglio conosciuto come Golden Milk, è un tonico, unico nel suo genere, che utilizza le fantastiche proprietà di una speciale radice chiamata curcuma, definita come la radice della guarigione del corpo. Viene dalla radice di una pianta coltivata principalmente in India, ma è stata usata in molti paesi per migliaia di anni come un alimento guaritore. È nota per essere utile agli organi interni, la colonna vertebrale e le articolazioni. Purifica il sangue e favorisce una generale buona salute. Ha anche proprietà curative esterne e può essere utilizzata per maschere e bagni per la pelle. La curcuma è stata utilizzata per migliaia di anni come sostanza detergente per il corpo. Quando viene utilizzata internamente, deve essere cotta, in modo che il corpo possa essere facilitato a sintetizzare i suoi poteri di guarigione. Si tratta di un nutriente essenziale per le donne di età superiore ai 28 anni. Il latte dorato è particolarmente utile per rigidità articolari e fornisce una fonte di lubrificazione per l'intero sistema. Esso comprende sia gli oli essenziali, che la curcuma. I due ingredienti essenziali per aiutare le donne a mantenere la loro flessibilità e vitalità. Ha proprietà antibiotiche naturali e può prevenire malattie e infezioni. È un ottimo rimedio per combattere le tossine ambientali e i microorganismi nocivi. Latte dorato, la ricetta. La ricetta del latte descritta qui sotto è stata condivisa da milioni di persone, poiché ha potenti proprietà curative. Ingredienti. Una tazza di latte vegetale, se è possibile si consiglia di farlo in casa. Mezza tazza d'acqua. Un quarto di tazza di curcuma. Un cucchiaino di olio di mandorle dolci, per uso alimentare. Un cucchiaino di miele, può essere aggiunto dopo che il latte è pronto. Una stecca di cannella o un cucchiaino di cannella in polvere. Un pizzico di pepe nero e zenzero grattugiato meglio se fresco. Procedimento. Portare ad ebollizione l'acqua e aggiungere la curcuma. Il rapporto consigliato di curcuma e acqua è di circa 1 a 4. Mischiare lentamente in modo che il composto diventi un po' denso. Ma non si asciughi. Il tempo di cottura consigliato è di 5-7 minuti. Durante il tempo di cottura. Se occorre. È possibile aggiungere dell'acqua. Una volta pronto. Il composto può essere conservato in frigorifero fino a 40 giorni. Tempo consigliato per il trattamento curativo. Per la preparazione del latte dorato. Prendere mezzo cucchiaino di composto. Mescolarlo al latte vegetale e ai restanti ingredienti sopra descritti. Il miele si aggiunge solo se si vuole dolcificare. Altrimenti si può anche evitare di utilizzarlo. La cannella è facoltativa. Serve per aromatizzare e rendere ancora più gradevole la bevanda. Ma ovviamente se piace. Questa bevanda è ideale per una fantastica guarigione ed anche come disintossicante. Si raccomanda di bere un bicchiere d'acqua dopo aver bevuto la vostra quotidiana tazza di latte d'oro per aiutare a depurare il vostro corpo. Benefici del latte dorato. 1. Previene e arresta la crescita del cancro. Questo latte previene e ferma la crescita di tumori al seno, alla pelle, ai polmoni, alla prostata e al colon. Poiché ha proprietà antinfiammatorie. Questo impedisce che le cellule tumorali crescano e riduce gli effetti collaterali della chemioterapia. 2. Agisce sulle malattie respiratorie. Il latte d'oro è un antimicrobico che attacca le infezioni batteriche e le infezioni virali. È utile per trattare le malattie legate all'apparato respiratorio. Poiché la spezia riscalda il corpo e fornisce rapido sollievo dalla congestione polmonare e dei seni. È anche un ottimo rimedio. Efficace per curare l'asma e la bronchite. 3. Ottimo rimedio per raffreddore e tosse. È considerato come il miglior rimedio per il raffreddore e la tosse. Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antivirali. Da immediato sollievo al mal di gola. Tosse e raffreddore. 4. Lenisce i dolori mestruali. Funziona meravigliosamente come antispasmodico che allevia il dolore e i crampi mestruali. Le donne incinte dovrebbero prendere il latte di curcuma come recupero post parto. Per migliorare la produzione del latte e per velocizzare la contrazione delle ovaie. 5. Allevia i dolori acuti, testa, ossa, articolazioni, ecc. Il latte d'oro è un ottimo rimedio per alleviare ogni tipo di dolore acuto. Può essere efficace anche per rafforzare la colonna vertebrale e le articolazioni del corpo. 6. Allevia i disturbi dell'insonnia. Il latte caldo produce un amminoacido. Il triptofano. Coinvolto nella modulazione dell'umore induce uno stato di serenità e calma. 7. Aiuta nella cura di ogni tipo di artrite. Il latte di curcuma è usato per curare L-artrite e trattare i gonfiori causati dall'artrite reumatoide. Inoltre contribuisce a rendere flessibili le articolazioni e i muscoli riducendo il dolore. 8. Purifica il sangue. È considerato un ottimo purificatore del sangue e può rivitalizzare ed aumentare la circolazione sanguigna nel corpo. È anche un anticoagulante che pulisce il sistema linfatico e i vasi sanguigni da tutte le impurità. 9. Rinforza le ossa. Il latte d'oro è una buona fonte di calcio e contribuisce a mantenere le ossa sane e forti. Abbassa il rischio di osteoporosi. 10. Azione antinfiammatoria. Ottimo antinfiammatorio. Può prevenire e proteggere le ulcere dello stomaco e le artriti. Questo è anche conosciuto come un'aspirina naturale nella medicina ayurvedica che può curare il mal di testa, i gonfiori e i dolori. 11. Azione antiossidante. Il latte d'oro è un'ottima fonte di antiossidanti. Che combatte i radicali liberi. In grado di curare molti disturbi. 12. Disintossicante per il fegato. Il latte di curcuma è un naturale disintossicante del fegato e purificatore del sangue che incrementa la funzione epatica. Supporta il fegato e pulisce il sistema linfatico. 13. Azione digestiva. È un potente antisettico che promuove la salute intestinale e tratta le colite e le ulcere dello stomaco. Questo aiuta a migliorare la salute digestiva e previene le ulcere. La diarrea e le indigestioni. 14. Arrossamenti ed irritazioni della pelle. Cleopatra fece bagni di latte di curcuma per ammorbidire la pelle. Renderla elastica e luminosa. Analogamente. Bere latte di curcuma rende la pelle luminosa. Immergi il latte d'oro in un batuffolo di cotone. Applica sulle zone interessate per 15 minuti per ridurre l'arrossamento della pelle e le macchie. Questo renderà la pelle più radiosa e luminosa rispetto a prima. 15. Effetto dimagrante. Il latte d'oro aiuta nella ripartizione dei grassi alimentari e questo può essere utile per il controllo del peso. 16. Dermatiti e malattie della pelle. Bere un bicchiere di latte di curcuma ogni giorno per il trattamento degli eczemi. Controindicazioni. Le controindicazioni del latte a base di curcuma sono legate soprattutto alla presenza della curcumina che rendono questa bevanda sconsigliabile in caso di calcoli biliari. Il fatto che la curcumina esplichi un'azione stimolante la secrezione biliare. Rende il suo consumo non adatto in presenza di calcoli alla colecisti. Che con l'aumento dell'espulsione della bile potrebbero muoversi verso i dotti escretori provocandone la parziale occlusione e dolore. Ulcere e gastrite. Il latte dorato stimola la secrezione gastrica cosa che peggiora eventuali gastriti o ulcere alla stomaco. Gravidanza e allattamento. Gli effetti della curcumina e dei tannini della cannella sul feto non sono ancora noti. Ma si ipotizza che possano avere effetti tossici sul fegato. Per precauzione. Quindi. Viene sconsigliata l'assunzione di latte di curcuma in gravidanza e durante l'allattamento. Includi anche tu questa potente bevanda naturale nella tua alimentazione quotidiana e trarrai degli incredibili benefici per la tua salute. Disclaimer questo articolo non è destinato a fornire consigli medici. Diagnosi o trattamento.